Ucraina e India non sono più leader mondiali dell'utero un affitto. Il business dei bevè si sta riorganizzando. Le ex destinazioni principali, come l'Ucraina e l'India, sono ormai escluse. Nuovi luoghi per il traffico di esseri umani stanno guadagnando importanza. Un anno di guerra ha avuto ripercussioni sul business dei bevè in Ucraina. Le immagini che hanno fatto il giro del mondo erano sconvolgenti. Genitori committenti disperati che, nonostante la guerra, cercavano di entrare in Ucraina per convincere la madre surrogata a uscire dal paese, per portare il loro bambino ordinato fuori dalla zona di pericolo. Agenzie che intimavano alle madri surrogate di abortire. Madri surrogate che partorivano nei bunker. Decine di infermiere che, nei rifugi, permessi si sono prese cura giorno e notte per gli stranieri di quei bambini che erano stati ordinati ma non ritirati. Madri in affitto che attendevano in vano il compenso loro promesso, perché nei tumulti della guerra all'agenzia non c'era più nessuno che fosse contattabile. È tempo di ripensarci? Niente affatto. La richiesta di servizi di maternità surrogata è più alta che mai, afferma Ior Pecenoa, direttore della clinica Biotexcom. Fino allo scoppio della guerra, l'Ucraina era il secondo mercato mondiale per maternità surrogata dopo gli Stati Uniti. Ogni anno 2500 bambini venivano portati in grembo da madri surrogate ucraine e il 90% era ordinato da coppie straniere. Ora c'è carenza di potenziali donne disposte ad affittare il proprio corpo per partorire. Poiché così tante donne ucraine sono andate all'estero, non ne abbiamo abbastanza per soddisfare la domanda, che dall'inizio della guerra è cresciuta, lamenta Pecenoa. L'agenzia ucraina per maternità surrogata Biotexcom vuole quindi ingaggiare come madri surrogate donne provenienti dalle altre ex repubbliche sovietiche. Le donne verrebbero reclutate da zone più povere, perché almeno questo Pecenoa lo ammette. Tutte quelle che lavorano come madri surrogate lo fanno per necessità economiche. Lo fanno perché hanno bisogno di soldi per comprare una casa per l'istruzione dei figli. La stessa Biotexcom è considerata la più grande e di maggior successo tra le numerose cliniche della fertilità in Ucraina. La clinica copre circa il 70% delle maternità surrogate in Ucraina, con un fatturato annuo di oltre 10 milioni di euro. Ciò che Biotexcom è riluttante ad ammettere, dopo la guerra le agenzie di intermediazione si sono spostate in altri paesi. Il Messico e alcune parti dell'America Latina hanno registrato un aumento della domanda dopo la crisi ucraina. Ormai è particolarmente attraente la Georgia, che ha leggi simili all'Ucraina ed è uno dei paesi più economici per la maternità surrogata. In Georgia la maternità surrogata è stata legalizzata già nel 1997. È relativamente economica e ha poche barriere legali. Questo rende il paese, poverissimo, attraente non solo per i clienti occidentali, ma anche per quelli indiani. In India la maternità surrogata commerciale è stata legalizzata 20 anni fa. Ora, nel 2022, è stata definitivamente vietata per gli stranieri e gli indiani, nonostante le forti proteste della lobby delle agenzie di maternità surrogata. Il modello della cosiddetta maternità surrogata altruistica è utilizzato pochissimo in confronto. Il business multimiliardario dell'India sta crollando. Così le cliniche indiane per la fertilità stanno costruendo le loro relazioni per il commercio di esseri umani con la Georgia. Il momento del divieto indiano non poteva essere migliore per la Georgia. Nel 2022, a causa della guerra, l'Ucraina è scomparsa come destinazione principale per i contratti di maternità surrogata per servire il mercato indiano. Le agenzie georgiane, in compenso, hanno già aperto filiali in India e in tutto il mondo. Per esempio, Art Baby, un'agenzia di maternità surrogata con sede a Tbilisi, è diretta da Ravi Sharma, un indiano. Il direttore di Art Baby è entusiasta della Georgia. La madre surrogata non ha alcun diritto sul bambino. Né la maternità surrogata né la madre surrogata sono menzionate nel certificato di nascita. Non c'è obbligo di farsi rappresentare da un avvocato. L'evidente entusiasmo di Sharma dice tutto. Parlare di madri surrogate è un eufemismo. Le donne vengono affittate solo per partorire. Tutto ciò che ci ricorda che la donna è biologicamente la madre del bambino deve essere cancellato e reso invisibile. La madre viene cancellata dalla biografia del bambino. Deve impegnarsi per contratto a consegnare il bambino ai genitori committenti. Questo ricorda il traffico di esseri umani di tempi ben bui. Anche l'inasprimento delle leggi in Russia potrebbe alimentare il mercato della maternità surrogata in Georgia. L'8 dicembre 2022 la Russia ha approvato un divieto di maternità surrogata per clienti stranieri. Secondo il presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin, negli ultimi anni 45.000 bambini nati da madri surrogate sono stati portati all'estero dalla Russia. Le coppie russe sposate e anche le donne russe single possono comunque continuare a realizzare il loro desiderio di avere figli con madri surrogate. Un'occhiata alla Georgia mostra la drammaticità della situazione. Gran parte della popolazione georgiana soffre di povertà. Il 35% è disoccupato, soprattutto i giovani. Molte donne sono vittime di violenza domestica e cercano rifugio nei centri di accoglienza per donne, dove le agenzie di maternità surrogata vengono a cercarle. Per liberarsi dei loro ex mariti le donne hanno bisogno di un reddito. Ad esempio, un'agenzia di maternità surrogata ha offerto a un'impiegata di una panetteria di 32 anni uno stipendio di 5 anni. Disperata, ha accettato. Mentre si nascondeva dall'ex marito violento in un centro di accoglienza per donne a Tbilisi, per paura di morire, ha dato in affitto il suo utero per diventare finanziariamente indipendente. La direttrice del centro di accoglienza per donne riferisce di 10 casi simili nel suo istituto. Un altro esempio di metodi senza scrupoli è l'agenzia londinese New Life Global. Fondata nel 2008 dalla dottoressa georgiana Mariam Kukunashivli, offre ai clienti internazionali un bambino a basso costo. Per far ciò, New Life Global sfrutta il vuoto legislativo di molti paesi per reclutarvi madri surrogate che portino in grembo bambini per clienti di paesi in cui la maternità surrogata è vietata. Ora, secondo un rapporto della piattaforma di ricerca Finance Uncoverit, l'azienda è nel mirino delle autorità a causa di società di comodo poco trasparenti e di sospette attività criminali. Le madri surrogate non ricevono contratti legalmente validi, i genitori possono scegliere il sesso del loro bambino. E nella filiale di New Life Global in Ucraina, i genitori committenti fino a poco tempo fa venivano informati del fatto che avrebbero dovuto ritirare solo bambini sani. I bambini nati disabili da una madre in affitto avrebbero potuto essere lasciati legalmente in un orfanatrofio a spese del governo. La resistenza globale alla pratica dell'industria utero in affitto che disprezza le donne e i bambini sta crescendo in tutti gli schieramenti politici. Il 3 marzo 2023, 100 scienziati ed esperti di 75 paesi di tutti i continenti hanno pubblicato la Dichiarazione di Casablanca in cui chiedono agli stati di abolire in tutto il mondo la pratica della maternità surrogata. Invece di fermare questi sviluppi dello sfruttamento, l'Unione Europea sta ora progettando di facilitare il commercio trasfrontaliero di neonati permettendo a quanti pagano per il bambino di diventare i genitori legali senza difficoltà burocratiche. Con ciò si favorisce il traffico trasfrontaliero di esseri umani. Quello che serve è invece un divieto internazionale della maternità surrogata. Solo così i diritti delle donne e dei bambini potrebbero essere efficacemente protetti.